Pietro Viercovud, il miglior stopper del campionato, teneva particolarmente a firmare un gol di questa Sampdoria che fa sognare gente. Viercovud soffre quando gli dicono che non ha piedi buoni. Così, dopo averci provato con il destro, spedendo il pallone sopra la traversa, ci è riuscito di testa. Su punizione di Sunes, la sua realizzazione perfetta per stacco e tentismo, ha aperto alla Sampdoria la strada per l'Europa. Un applauso che viene da lontano, che sa di attese di una città nel calcio e non solo in questo sport, troppe volte deludente e delusa, anche per lo stadio, oggi messo a dura prova da 43.000 spettatori. Per giustificare la sconfitta, Nils Lidholm ha parlato delle scarpe non adatte di Di Bartolomeo. Per qualche tacchetto in meno, il Milan sarebbe dunque scivolato sul verde prato di Genova. Un'opinione. In verità la Samp è parsa più concreta e determinata, concedendosi il lusso di un Francis bravo, ma suppone, oltre che, udite udite, di un Roberto Mancini in panchina. Ma quando Sunes segna gol come questi, ma quando Sunes dicevamo segna gol come questi, nessuno bada all'orasta. Neppure la difesa, che sull'unica distrazione ha concesso a Battistini la piccola soddisfazione del 2 a 1. Mentre, al microfono di Alfredo Liguori, Bordon ha detto che la via della nazionale passa attraverso la Sampdoria e Manzo, a nome del Milan, ha promesso un riscatto a partire da domenica prossima con il Verona. Io ho sempre avuto buoni rapporti con la nazionale, specialmente col commissario tecnico che mi ha sempre espresso la sua fiducia nei miei confronti. Sembra che si dimentichi che poi invece... No, io ho sempre avuto anche io una certa stima nei suoi confronti, sapevo che quello che mi aveva detto l'avrebbe fatto, però io non sono uno che si trastulla sulle cose o sugli allori, sulle cose belle. Io dico che cercherò di continuare a dare il massimo nella mia squadra di club, cioè nella Sampdoria e poi se verranno ancora queste soddisfazioni con la maniera nazionale è ancora meglio. Adesso, come adesso, ci aspettano tre incontri casalinghi. Uno molto difficile con il Verona, gli altri due sono sempre difficili perché sappiamo le squadre che incontriamo sono nella classifica bassa, però giocando in casa e forse col rientro di Attila noi potremmo pensare ancora per un posticino e un UEFA.